Il popolare programma Le Iene, nella puntata di ieri, si è interessato dell'esperimento nucleare SOX con il cerrio 144 da effettuare sotto il monte abruzzese a poca distanza dalla captazione dell'acqua potabile del Ruzzo. La combattiva Nadia Toffa ha avvicinato Augusto De Santis, del forum H2O e dell'osservatorio indipendente dell'acqua del Gran Sasso, cercando di approfondire il tema, provando a fare chiarezza sulle autorizzazioni della sperimentazione. Se il Ministro Galletti ha risposto in maniera evasiva, il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, non ha risposto proprio e ha messo letteralmente alla porta la toffa. Si è comodito. Si. Perché non risponde? Si è comodito. Ma perché non risponde? Scusi. Non avete detto neanche niente alla cittadinanza, ma perché fa così? Scusi. Il Governatore l'ha spintonata fuori e da qui critiche polemiche all'indirizzo di D'Alfonso. A prendere le difese del Presidente, il consigliere regionale, Luciano Monticelli. Monticelli, cosa è successo? Perché secondo lei ha reagito così il Presidente D'Alfonso? Ma no, ma io credo che il Presidente D'Alfonso, che lo conosco ormai da tempo e vivo con lui un'esperienza bellissima, non ha fatto nulla di eccezionale, soltanto che a volte i giornalisti, ho visto la ripresa fatta anche sulla questione del porto, che l'ordine dei giornalisti ha preso una posizione abbastanza. Io credo nulla di eccezionale, come non fu fatto nulla un paio di anni fa durante il Consiglio regionale, quando in Movimento 5 Stelle occuparono i posti della Giunta. E' facile per chi amministra essere sotto sempre osservazione, essere anche attaccato, a volte in maniera anche non veritiera. Io, ripeto, conosco benissimo il Presidente D'Alfonso, persona educata, poi a volte si può anche sbagliare perché le tensioni possono essere molte, ma poiché è una persona che lavora per tante ore al giorno, voi immaginate che questi motivi ci possono anche essere.